bello a tutti ragazzi oggi da lucanator 05 faremo un nuovissimo video di minecraft pocket edition il primo si tratterà di semi in minecraft pocket edition scusate la ripetizione ma ecco si allora iniziamo con i semi e dopo i semi tante altre cose mod iniziamo con la survival primo sito si parte della micelium il micelium è un buono formule ed è molto buona perché ci sono quelle mucche in museum 8 68 66 09 36 8 ecco qua andiamo e c'è pure un posto c'è pure nel senso per un villaggio è guardate che bello visaggio col mushroom davvero forte passiamo al secondo sito allora primo sito andato secondo sito il secondo ipodosol se non conoscete cos'è il pedosol ve lo spiego io ipodosol è quella tipo di terra molto nera molto nera tra il nero e contrasto marrone e ci sono quegli abili della tundra molto alti ora ve lo faccio vedere 52 82 82 82 75 85 82 82 83 ecco 3 questo qui vi lascio il tempo di scriverlo e andiamo ecco qui 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 più dotol questo cos'è un contrasto tra l'arangione e il terzo sito si tratta del biomo della la foresta è molto grande, sarebbe 22101, no, 2200, scusate, 101, eccolo qua, andiamo e vedremo chi sarà questo bioma, molto bello perché ci sono i cacao, guardate, e sarebbe questo, poi, 22101, questo qui, poi, quarto video, se non mi sbaglio, perché io ho perso il conto, è molto epico, 111, ecco fatto, 111, un paolo semplice, allora, eccolo qua, se non ci tiriamo, guarda che troviamo, ho sbagliato, per figura, sta scherzando, sta scherzando, stava fatta, guardate che bello, due piramidi, uno di questi due piramidi, ci sono proprio dei diamanti, ma se non mi sbaglio uno, un diamante, poi, un altro seed, molto semplice, è questo, il porto, questo porto, è un seed, molto bello, perché contiene i giusti materiali, la caverna, questa caverna là, qui, che contiene pure degli diamanti, se è andato col piccone fortuna, il coso del fabbro, è fatto, poi, passiamo all'altro seed, allora, quindi posso prendere, ecco qui, è 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 86, ecco qua, 86, andiamo, eccolo qua, voi dovete andare da quella parte, e c'è un porto, davvero bello, poi, passiamo all'altro seed, no, no, scusate, quello è sbagliato, scusate, no, sono sbagliato, perché quello è un seed sul computer, invece è sbagliato, scusate, passiamo all'altro seed, l'altro seed 2, 2, 2, 3, 2, 2, 3, è un seed, molto bello, se non ho sbaglio, perché ci dovrebbe stare un porto, molto carino, no, 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 no Grazie a tutti